La casa di peschi è ovunque ci sono persone che producono arte. La casa di peschi è ovunque gli artisti lasciano la loro testimonianza. La casa di peschi è a Palazzo Buonaccorsi di Macerata che si sviluppa lungo un percorso che taglia e avvolge le stanze, penetra lo spazio percorre il tempo e coinvolge i visitatori. Arte, testimone del tempo in cui viene prodotta. Multiforme, ogni artista ha il suo segmento di tela, piccolo mondo rupestre dove lascia un messaggio. Oggi è questo, domani cambierà, non sarà mai uguale perché la società cambia, promuove culture diverse, pensieri diversi, evoluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In un angolo musicisti usano i loro strumenti, vibrazioni già udite, ma oggi diverse si uniscono alle frequenze dei colori, delle scritte, delle immagini, dei pensieri, del flusso delle persone. Tutto cambia, tutto si trasforma, tutto è divenire. Una voce canta, strumento umano, una voce recita, poesia ed è sintesi, pensiero vibrazione. C'è arte nella casa di Peschi, anche cento anni dopo, anche prima. di Peschi, l'arte è nell'uomo.